salve amici e amiche allora ieri ho pubblicato il video dell'abbattimento di questo aereo russo misterioso che apparentemente almeno inizialmente era stato chiamato dichiarato come un su 25 ho fatto l'analisi dell'abbattimento sulla base delle mie deduzioni insomma ero arrivato a fare le ultime conclusioni erano che si fosse trattato di che si è trattato di un s su coi 70 un grosso drone abbattuto sopra il donesco sopra l'area di costantinsca per essere precisi oggi sono arrivati altri aggiornamenti e fra l'altro alcuni post continuano a parlare di su 34 su 35 su 25 c'è un po di confusione in realtà poi è stato confermato che si è trattato di fatto di un su coi 70 questo drone di cui adesso ne parleremo più nel dettaglio fra l'altro attualmente da parte di fonte russa dei blogger russi si sta parlando almeno la voce di corridoio un po più diffusa è quella che questo drone abbia perso controlli controllo e l'aereo che lo stava seguendo per fare dei test perdendo il controllo sul drone ha deciso di abbatterlo quindi confermo la seconda ipotesi di ieri per cui allora escluso categoricamente che si è trattato di un caso di fuoco amico accidentale come dicevo ieri mentre è stato di fatto un caso di fuoco amico intenzionale ma questo insomma era piuttosto ovvio vi faccio vedere il video data la modalità con cui è stato eseguito l'abbattimento non è possibile un abbattimento accidentale in questi casi ma un caso di fuoco amico intenzionale quindi quello che possiamo dire ecco questo è il momento in cui parte il missile lo colpisce l'aereo che ha abbattuto il drone poi vira e si disimpegna ok poi sono arrivati altri video del drone che precipita e ancora adesso vediamo se lo becco ve lo faccio vedere ecco è questo questo è il video del drone che precipita addirittura in questo post si parla di su 34 no quello che vediamo cadere è un su e 70 si vede distintamente l'ala a delta vedete è un triangolo fondamentalmente né più né meno è molto la forma è proprio tipica del triangolo del delta tutt'ala viene chiamato in gergo aeronautico ora quindi questa è la situazione il drone è precipitato in quest'area nell'area zona di costantinica dalla parte almeno per quello che sto leggendo adesso la in queste ore si parla che frammenti siano cadute siano caduti un po di qua è un po di là della zona occupata dai russi quindi alcuni frammenti sono caduti nella zona ucraina ora da fonte zoom un po indietro per capire dove stiamo la zona di costantinica l'area del donesco quindi qui il drone è caduto indicativamente qui quindi la modalità che si vede operare da quello che posso dedurre diciamo lo ripeto qui sto facendo sempre delle mie speculazioni delle mie considerazioni personali però data la traiettoria lineare del volo ad alta quota faremo alcune deduzioni piuttosto importanti e da quello che si vede insomma stavano facendo un test con questo drone e poi è stato abbattuto a quel punto l'aereo vira a sinistra dopo aver lanciato il missile l'aereo che ha lanciato il missile vira a sinistra e si disimpegna quindi se dovessi ricostruire approssimativamente l'accaduto zoomiamo la traiettoria dovrebbe essere stata questa hanno ha poi sparato e se ne è andato in questo modo e il drone poi è precipitato in quest'area ok quindi questo più o meno la ricostruzione della traiettoria così a naso è in maniera molto approssimativa però se la virata era a sinistra era sicuramente verso sud a questo punto ok allora intanto è come come dicevo è stato confermato che si è trattato di un drone s7 su coi 70 i frammenti parlano chiaro fra l'altro ecco questa è l'ala dove si vedono le centine e il materiale di cui è fatto almeno il bordo d'attacco che per quello che posso dire da qui così a naso hanno parlato di decantato tanto i materiali compositi però qui si vede fondamentalmente vetro resina non qualcosa di un po più complicato però questi rivetti vedete i rivetti sono insomma non sono tecnologia stealth se vedete un f 35 vedete la cura maniacale con cui vengono rivestiti i rivetti di materiali radar assorbenti questo ci dà un'idea insomma che questo aereo stealth stealth non era vedete si vede benissimo il materiale che sicuramente non è ferro qui o almeno saranno delle leghe ma non lontani molto lontani dai materiali compositi europei quindi poi si vede il motore motore che è lo stesso del su 27 aspettate che ho pescato la l 31 fn luica liuca o come si dice perdonatemi sempre chiedo venia per la mia pronuncia del russo però questo è il motore di un grosso jet come il su 27 stiamo parlando di questo motore qui l'uscita come dicevo ieri del mostro l'immagine del drone e questo drone qui fra l'altro le le dichiarazioni sono almeno per quello che sappiamo sappiamo che ne hanno costruiti tre di questi droni sperimentali e di cui appunto ora dovrebbero restarne due come vediamo questo grosso motore centrale a un uscita che non è schermata nella luce infrarossa quindi il drone non è sicuramente stealth se parliamo dello spettro della luce infrarossa e non è stealth nella composizione almeno non più di tanto la geometria si almeno penso l'intenzione è quella ma ma c'è da considerare adesso ci arriveremo la forma è piuttosto indicativa e la dimensione anche ora la storia di questo drone particolare nel senso è stato prodotto in tre esemplari a partire dal 2019 quindi proprio ieri ed è stato concepito con l'idea di affiancarlo al su 57 vediamo se è questo aereo qui l'aereo più avanzato russo in circolazione anche di questo ce ne saranno adesso penso una quindicina una ventina in giro non di più insomma doveva essere il drone da accompagnare scusate telefono era il drone da accompagnare al su coi 57 ora data questa informazione che vi ho appena detto per cui se si va a leggere un po in giro diverse riviste fonti siti si dice che il su coi 70 è pensato per accompagnare il su coi 57 nelle varie nei vari post su x in queste ore ma anche sui vari siti circola la voce che ad abbatterlo sia stato un su coi 57 vedete qui confermato un su coi 70 è stato abbattuto da un su coi 57 ora di questo però non c'è certezza voglio dire un conto è prendere l'informazione che il su coi 70 è pensato per affiancarsi al su coi 57 un altro è dire che è stato un su coi 57 da batterlo non abbiamo nessuna certezza che questi due oggetti che vediamo fossero uno il drone il drone lo sappiamo ormai per certo ma l'aereo che ha tirato il missile fosse il su coi 57 mi puzza un po nel senso fino ad oggi non abbiamo mai visto il su coi 57 in giro sull'ucraina e diciamo ci sono speculazioni che potrebbero aver lanciato missili da fuori dello spazio aereo ucraino ma ripeto volare in quest'area al ridosso del fronte per un aereo così importante per la russia come su coi 57 non è un grosso rischio quindi perché perché fare un test così con un aereo che è super sperimentale come su coi 57 un aereo che è super sperimentale come il drone su coi 70 e fare un test direttamente oltre la linea nemica quindi capisco che se il drone se ha nel drone c'è stato un malfunzionamento hanno perso il controllo hanno ritenuto di abbatterlo prima che superasse la linea nemica che finisse in pieno territorio ucraino lo capisco però sono un po scettico opinione mia personale sul fatto che sia stato un su coi 57 troppo rischioso nel senso perché tanto valeva usare un su coi 35 per esempio che sono molti di più più affidabili hanno già uno storico di operatività quindi potrebbe essere stato tranquillamente un su coi 35 ad abbattere questo drone comunque ieri vi avevo accennato alla scia del missile avevo diciamo già fatto la speculazione per cui potevano essere stati soltanto su 27 su 30 su 35 o su 57 ad abbattere questo drone quindi se prendiamo poi la forma come ho detto del drone vi faccio vedere torniamo all'immagine principale questa questo il progetto russo ok ora come al solito i russi scopiazzano bellamente e infatti il drone da cui hanno preso spunto per realizzare la loro versione era leaks 47b sviluppato per la marina un drone che ha fatto alcuni voli di è stato un prototipo che ha avuto un discreto successo ed è un tutta la la forma praticamente identica però ecco il drone della marina americana vedete come si si presenta l'ugello posteriore del motore questa è appunto la per sviluppare la specifica per ridurre anche le emissioni termiche quindi il drone si presentava con una chiara intenzione stealth poi come vedete no da un punto di vista americano c'è una cura maniacale per non mostrare i rivetti perché quelli tornano come traccia radar mentre qui invece la situazione è ben diversa ora una cosa interessante da dire è che l'x 47b americano in realtà è stato un banco di prova ma non è stato portato avanti come soluzione per un drone di questo tipo perché perché hanno visto che non era stealth cioè non basta semplicemente fare un tuttala senza appendici verticali per renderlo stealth la dimensione conta cioè superfici da sole non bastano se l'aereo il droggetto è grosso comunque ha una firma radar piuttosto importante quindi il progetto non è andato avanti in america e mi stupisce come nel 2019 i russi continuano a produrre questo oggetto che insomma stiamo parlando di dimensioni pressoché del doppio dell'x 47 americano cioè qualcosa come 19 metri 19 metri di apertura alare cioè un gigante vediamo se becco un'immagine ecco cioè guardate l'omino quanto è piccolo e proporzione è grande quanto un aereo né più nemmeno anche di più volendo quindi questi 19 metri di apertura alare 20 tonnellate di peso motori non schermati insomma se questo oggetto è stealth io insomma sono un credente alle scie che un sostenitore delle scie chimiche quindi no stealth per niente sicuramente del resto anche il su 57 secondo tanti analisti non è stealth è un aereo che ha un'intenzione di una riduzione della firma radar ma siamo molto molto lontani dalla tecnologia stealth americana o europea su questo fra l'altro ci torneremo fra poco comunque dall x 47 b americano gli americani l'hanno usato come dicevo come banco di prova per portarsi avanti visto che adesso stanno sviluppando il progetto ng ad che cos'è questo progetto è quello di affiancare alla flotta di qualcosa come 2500 f 35 in produzione scusate si 2400 qualcosa del genere quindi il grosso della flotta degli stati uniti sarà composto da f 35 ma le f 35 che vediamo in queste immagini adesso ve le mostro un attimo questo qui le f 35 è comunque un aereo costosissimo che non si possono permettere di perdere se dovesse scoppiare per esempio un conflitto nel pacifico a causa della cina e taiwan e quindi hanno bisogno di una costellazione di droni sacrificabili droni che possono usarsi affiancati all f 35 per svolgere il ruolo di esca per lanciare missili per lanciare bombe per tenere diciamo più al sicuro il pilota reale e mandare avanti i droni nel ruolo di avans coperta insomma immaginiamo una situazione del genere quindi anche la russia ha voluto copiare questa idea ha detto ma si facciamo un drone da affiancare al nostro non mi vedete gesticolare ma sto facendo le virgolette con le dita aereo di quinta generazione non è vero vabbè comunque insomma questo progetto americano da cui i russi hanno copiato in realtà si è arenato e da questo progetto in realtà poi hanno sviluppato l'mq 25 steaming ray ora questo drone in realtà ha già delle discrete capacità stealth e rientra pienamente nel nell'inviluppo di volo possibile per il programma è in giro di infatti i progetti stanno andando avanti specialmente in australia i voli stanno proseguendo insomma è un oggetto molto più piccolo con una radar cross station px più piccola quindi e stealth a una stiva ventrale ed è un drone cos che costa poco ed è sacrificabile concetto alla base dei droni e che insomma costino poco sono possono essere sacrificati e se ne può produrre in gran numero sempre sui costi visto che me l'avete chiesto il sukoi 70 comunque è un drone economico cioè parliamo di 10 11 milioni di dollari come costo unitario ma lo stesso sukoi 57 russo è un aereo molto 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 economico rispetto per esempio un f35 il sukoi 57 ha un costo unitario compreso fra i 35 e i 50 milioni di dollari sono noccioline se si parla di un aereo da combattimento visto considerato che per esempio un nostro euro fighter arriva a costarne 90 120 in base alla tranche milioni di dollari e un su 35 arriva a costarne 130 milioni di dollari ora è un po il discorso semplicistico da dire però in aviazione se si parla di progetti iper tecnologici progetti militari vale il concetto di come spendi mangi così è chiaro che un aereo economico si ha dei vantaggi perché ne puoi produrre di più però del resto a poi alla fine avrai i rivetti come si vede in questa foto vediamo se la becco anche questa poi ecco e non ti non ti stupire se l'aereo a questi materiali e questi rivetti cioè è quello il risultato quindi questo questo è allora vi faccio vedere altre immagini però fondamentalmente si vede si vede l'oggetto precipitare e questo è quello che sappiamo quindi per il momento le informazioni che abbiamo sono queste altre foto per esempio dei rottami come vedete tu rivetti rivetti dappertutto questo oggetto non è stealth non lo è assolutamente quindi sarà interessante vedere se qui si vede meglio è proprio lui bene quindi per per concludere poi alcune informazioni che cercando informazioni su x fra l'altro giusto per ridere sono incappato in questa pagina di uno sfegatato sostenitore delle scie chimiche fra l'altro mi ha fatto ridere questo video perché ha detto ah ecco il pilota attiva lo sportello di rorazione troppo presto e viene filmato guerra alla geo ingegneria guardate bellissimo mi fa un po' tristezza perché se chi ha fatto questo video lo ha fatto per la bellezza delle immagini perché c'è la neve vedete la temperatura è talmente bassa la pressione è bassa di conseguenza si forma la condensa la condensa è la stessa che si forma quando fa tanto freddo e vediamo le nuvolette di vapore uscire dal nostro fiato o dallo scappamento delle automobili e quello non è niente di diverso alla fine però mi fa specie perché appunto queste vengono dichiarate come scie chimiche sono com trace scie di condensa è un fenomeno fisico noto insomma che avviene anche agli esseri umani se li metti in quelle condizioni di freddo una cosa che mi fa ridere poi è che spesso si fa confusione in questi in questi siti fra scie di condensa e scie di condensazione e trecce di berenice sono due cose diverse una cosa sono i gas di scarico dei motori che si raffreddano contengono comunque particolato quello che sono agenti chimici il risultato della combustione dei motori che sono polveri quello che è quindi l'acqua ghiacciata vi si attacca a forma dei piccoli aghi che appunto noi vediamo perché sono bianchi un altro è la zona di bassa pressione che si forma sull'estradosso sulla punta delle ali in generale questa zona di bassa pressione comprime l'aria e ci mostra l'umidità all'interno dell'aria è un po' come quello che succede anche alle auto di formula 1 vedete in questa foto si vede per esempio una treccia di berenice uscire dall'ala frontale della formula 1 vedete qui per esempio ai lati si vedono spesso nei gran premi quando ci sono le condizioni c'è molta umidità nell'aria bassa pressione e quindi quando l'aria viene compressa in prossimità dell'uscita delle ali si formano queste che non sono scie chimiche si chiamano trecce di berenice sono un fenomeno bellissimo da vedere quando si vede vedete tra l'altro è un grosso problema a livello ingegneristico perché l'aspetto visibile chiaramente è una cosa ma anche quando non si vedono ci sono questo è un fenomeno legato alla resistenza dell'aria per cui gli ingegneri automobilistici e aerodinamici cercano di trovare sempre nuove soluzioni per abbattere questo problema per limitare la resistenza dell'aria non a caso per esempio gli aerei di linea hanno le winglet che sono queste piccole ali verticali alla fine delle ali principali queste offrono meno resistenza e eliminano parte di questo problema questo problema qui in questo video fra l'altro si vede la combinazione sia della della bassa pressione sul dorso delle ali sia l'effetto delle trecce di berenice ai bordi proprio e si nota l'aria in questa giornata è veramente c'è tanta nebbia nuvole a bassa quota umidità quindi vedete sono tutti questi fenomeni che sono bellissimi da vedere perché uno deve pensare alle scie chimiche e la fisica la cosa bella che poi appunto la zona di bassa pressione generata ruota insieme alla al mulinello che ha generato l'ala a causa del peso dell'aeroplano queste sono turbolenze di scia sono dei rotori vengono chiamati così che sono anche molto pericolosi per questo quando andiamo in aeroporto se l'aeroporto è molto trafficato bisogna aspettare il proprio turno sulla testata pista fra un decollo e l'altro così vale in atterraggio perché passare all'interno di queste aree vorticose può essere pericoloso per gli aeroplani e niente chiudo il video con questo questi 44 secondi di f35 visto che qualcuno mi ha detto enrico dovresti cambiare la tua immagine del profilo perché è un aero russo ma io amo tutti gli aeroplani signori non ne faccio una questione di tifoseria si vedono le trecce di berenice all'estremità f35 vedete è fra l'altro una bellissima skin artica credo che sia e niente signori con questo è tutto come sempre iscrivetevi al canale se non l'avete fatto fatemi sapere nei commenti un abbraccio alla prossima